In battuta c'è Marta Agostinetto, buona la sua battuta su Gianpietri che risponde presente, pipe proprio per Fiore, Manuela Fiore! Non c'è stato, poco male, 11-5, meno 6 Perugia che deve assolutamente ingranare la marcia e reagire, palla alta proprio per Fiore, in pipe, murata e difesa Fiore, Gobbo alza ad Agostinetto che prova la parallela, Agostinetto! Riusciamo a diventare meno prevedibili in attacco e vediamo se Rebecca Rimoldi riuscirà a smarcare per bene i suoi attaccanti. Agostinetto coperta dalle compagne, Fiore, copertura ancora, palla lunga, in free ball per Perugia, apertura proprio per Manuela Fiore, in diagonale, Agostinetto riesce a coprire, Zuleta prova il rigore, non riesce, palla ancora per Agostinetto, free ball per Perugia, inattaccabile quella palla, buono l'appoggio di Lotti, palla a Zuleta un po' bassa, Zuleta accosta come può, palla per Migliorini, in pallonetto, Rimoldi ci arriva, non ci arriva Pascucci, 14-6, Zuleta al servizio prima era stata letale nel suo turno. Buona a Zuleta, difficile la ricezione per Lanzini, Schlegel, palletta di là, difesa da Perugia, non buono l'appoggio di Perugia, palla alta, attaccata per Lotti, non c'è la copertura, 25-20, finisce così il primo set. A terra loro con un pallonetto ci fanno punto, pazienza ragazzi, pazienza, è tanto, tanto, tanto. Nel frattempo cambia colpo, Morogli è lì, Schlegel, Giampietri difende bene, palla alta ancora per Silvia Lotti, Lotti non trova le mani del muro, out il colpo di Silvia Lotti. Repice al servizio, corta verso Pastorello, palletta di Morogli, grande pallone di seconda di Morogli. Mazzini, buona la sua battuta, palla per Migliorin, in diagonale, Giampietri tiene, palla alta per Pascucci, prova a picchiare, Pascucci difesa da Migliorin, Morogli, palla alta per Schlegel, free ball, in campo Perugia, palla per Zuleta, pallonetto di Zuleta, out in, Lorena Zuleta, grande pallonetto sulla linea. Siamo lì, più uno, forse la nostra formazione migliore in muro difesa. Mazzini, Schlegel presenta, apertura per Migliorin, palla attaccata, Migliorin spinge tanto, tanto quella palla. Con la sua salto spin che fa tanto male quando entra, buono, Lanzini, ricezione, palla per Schlegel, difesa di Mancinelli, palla al centro, Pastorello, punto di Pastorello. Alla fine della stessa, dovevamo comunque cercare che loro facessero il punto, questa palla sulla linea non si poteva dire niente, senza spasentirci. Palla per Fiore, difesa, Fiore da Migliorin, palla alta proprio per Migliorin, tocca al muro a tre di Perugia, non può nulla Giampietri, però in difesa, pari tre. Fare quell'accelerata in più per cercare di riagganciare e superare con Legno. Buona battuta di Zuleta, Migliorin, Pastorello, Lotti! Silvia Lotti, muro! Non c'è quasi mai una palla che cade al primo colpo, dobbiamo sempre essere tanto pazienti per mettere la palla a terra, grandissimo studio da parte loro della nostra partita. Cambia il colpo repice, ma c'è Lanzini, palla alta per Lotti che deve provare a risolvere, difesa da Schlegel, Morolli alto per Migliorin. Gran colpo di Migliorin, punto 10-9. Fa Agostinetto al servizio, picchia proprio su Mancinelli, non si capisce con Giampietri, palla alta per Mancinelli, difesa da Lanzini. Gioco al centro, Pastorello, toccata da Zuleta. Lotti prova a risolvere con un pallonetto. C'è Agostinetto, Schlegel alto, difesa da Mancinelli. La difesa però finisce in rete. Buon momento da parte di Raghele e Mancinelli con questi due punti consecutivi. Lotti ancora al servizio, corto, Lanzini, risponde presente, palletta, punto. 25-19, chiude la seconda palleggiatrice di Collegno.